Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale e tv siti. In apertura la preoccupazione per l'emergenza sanitaria. I contagi tornano a salire in tutta Italia dopo settimane di tregua. Passiamo ora alla cronaca con l'iniziativa all'interno della caserma dei carabinieri di Ercolano, una stanza d'ascolto per le donne vittime di violenza. E' ancora emergenza rifiuti a Torre del Greco come ogni lunedì mattina. La zona Porto è ancora invasa ad accumuli di rifiuti. In conclusione la vittoria dell'Italia agli europei. Festeggiamenti folli anche a Torre del Greco. Questo ed altro nei nostri servizi. Tornano a salire i dati del contagio in tutta Italia. Non siamo ancora davanti a numeri preoccupanti. Parliamo di 161 pazienti in terapia intensiva registrati ieri in tutto il paese. Tuttavia, sempre nella giornata di ieri, l'indice di positività si è attestato sullo 0,97%, in netto aumento rispetto alle scorse settimane. Complici le riaperture e gli assembramenti indiscriminati, il virus sembra continuare a marciare, pur se frenato dai vaccini. Preoccupa anche la diffusione sempre più rapida della variante Delta e l'incertezza sulla protezione data dagli attuali vaccini contro di essa. Si riunirà oggi il tavolo tecnico del Ministero della Salute che è impegnato per la definizione dei parametri che servono a stabilire la posizione nelle regioni rispetto ai profili di rischio, alla luce della variante Delta. Tra le proposte la definizione di un numero minimo di tamponi settimanali. Per la zona bianca potrebbero essere richiesti almeno 150 ogni 100.000 abitanti. Una revisione potrebbe riguardare anche il cosiddetto RT ospedaliero, vale a dire il tasso di occupazione dei posti letto. Al momento la soia minima di rischio è uguale o inferiore al 40% per i posti letto in area medica e al 30% per la terapia intensiva, che passerebbe rispettivamente al 30% e al 20%. L'ampia distribuzione dei nuovi casi sul territorio nazionale indica una ridotta ma persistente circolazione diffusa del virus nel nostro Paese. E' quanto riferisce il documento esteso dal monitoraggio settimanale IS Ministero della Salute pubblicato sul sito epicentro dell'IS e aggiornato al 7 luglio. La maggior parte dei casi segnalati in Italia nelle ultime due settimane sono stati sottoposti ad accertamento diagnostico per la presenza dei sintomi, il 31,8%, o in seguito ad attività di ricerca dei contatti di casi accertati, con contact tracing, il 29%. Si rinnova l'intesa tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la Presidenza dell'Associazione Soroptimist International Italia. Questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e Soroptimist International Club Napoli hanno inaugurato presso la tenenza dei Carabinieri di Ercolano una nuova stanza tutta per sé, dedicata all'accoglienza e all'ascolto delle vittime di violenza di genere. Un ambiente riservato all'ascolto e alla denuncia, allestito con arredi più accoglienti e caldi, distinti da quelli degli uffici generalmente utilizzati per la raccolta delle denunce. In linea con gli obiettivi del protocollo, il Soroptimist Club Napoli ha donato gli arredi e materiali informatici per la realizzazione della stanza, offrendo mobili, illuminazione e arredi che richiamano quelli di un ambiente domestico più che quelli di un ufficio di polizia. Questo per favorire l'empatia tra le vittime e gli operatori della sicurezza, secondo un modello di dialogo già efficacemente assimilato e sperimentato nelle pratiche operative dell'arma. Progetti di questo spessore si affiancano alle importanti iniziative adottate dall'Arma dei Carabinieri, con l'istituzione a livello nazionale sin dal 2009 di una sezione Atti Persecutori nell'ambito del raggruppamento investigazioni scientifiche, con la realizzazione di una rete nazionale periferica di personale specializzato nella violenza di genere e con la diffusione di un prontuario tecnico-operativo che fornisce al personale un riferimento qualificato per la gestione dei casi. Di grande utilità si è rivelato nel territorio della provincia napoletana il Mobile Angel, uno smartwatch che garantisce alle vittime un contatto immediato con le centrali operative dell'arma, allertando i carabinieri in caso di pericolo con un semplice clic. La stanza di Ercolano, la terza della provincia di Napoli, dopo quelle di Capodimonte e Caevano, va ad inserirsi in un contesto territoriale che abbraccia l'intera area vesuviana e costiera, spesso problematica per l'incidenza della criminalità comune e organizzata. Un ulteriore presidio per contrastare con la prossimità il fenomeno della violenza di genere, in un territorio sul quale l'arma dei carabinieri investe quotidianamente impegno e risorse umane sui piani preventivi e repressivi. Ancora degrado in zona porto a causa della spazzatura. Come ogni lunedì mattina, Torre del Greco è invasa ad accumuli di rifiuti non raccolti. La situazione si aggrava principalmente nelle aree periferiche della città. Né un esempio la zona compresa fra il porto e Corso Garibaldi. Soprattutto le traverse sono invase da discarichi a cielo aperto. Molti dei sacchetti contengono rifiuti organici che col sole ed il calore di questi giorni rilasciano esalazioni e male odori che si percepiscono anche a decine di metri di distanza. Considerando le tante abitazioni che affacciano proprio su questi cumuli, la situazione è drammatica. Non mancano i soliti ingombranti come pezzi di mobilio che fanno capolino fra le montagne di sacchetti. Come al solito, la causa è principalmente l'inciviltà di tanti cittadini che non rispettano giorni orari di conferimento e quindi i rifiuti abusivi non vengono raccolti. Tuttavia, data la situazione, è necessario comunque predisporre un servizio emergenziale che possa provvedere laddove il buonsenso della gente venga meno per evitare che il degrado dilaghi per le strade. Italia campione d'Europa. Gli azzurri di Roberto Mancini conquistano il trofeo nella finale di Wembley, sconfiggendo l'Inghilterra e riconquistando il titolo continentale 53 anni dopo la prima vittoria a Roma nella finale bis contro la Jugoslavia. La combagine italiana ha portato a compimento un vero capolavoro, dopo la disastrosa campagna di qualificazione mondiale e la rifondazione iniziata nel 2018. Da insegna a Donna Rumma, da Chiesa a Giorginio, da Ponucci a Spinazzola, per finire a Chiellini che raccoglie l'eredità di Facchetti in qualità di capitano della nazionale vincitrice. Anche a Torre del Greco i festeggiamenti non sono mancati, con gente in strada, fuochi d'artificio, suoni e cori di esultanza dei tifosi. Tanti ragazzi che si sono riversati nelle vie cittadine con bandiere sciarpe e tricolori per dare sfogo alla propria felicità per un successo tanto bello quanto inaspettato e che ha regalato a tutti gli italiani la gioia di vivere tante notti magiche. Grazie per la cortesia attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto, io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie per la visione! Grazie!